La scioccante sparatoria nel bar all'angolo della strada parco di Pescara. Mentre gli inquirenti vanno avanti con le indagini, noi abbiamo voluto chiedere, senza ovviamente entrare nella dinamica dei fatti, all'avvocato penalista Andrea Monti, in questo caso in veste di istruttore di tiro TSN Pescara, se chi ha sparato uccidendo l'architetto di Francavilla al mare Walter Albi e ferendo gravemente l'ex calciatore Luca Cavallito sia un balordo o un professionista. Ed ecco cosa ci ha risposto. Allora, partiamo dal presupposto che la mia esperienza è di tipo esclusivamente sportivo, quindi non posso e non voglio entrare in ambiti che riguardano specificamente la dinamica dell'omicidio e dell'altro attualmente tentato omicidio. Posso dire che un tiro di quel genere a 8 metri di distanza circa, in una condizione estremamente scomoda, se fosse stato eseguito durante una competizione, perché ci possono essere scenari di questo genere, quindi bersagli a quella distanza, sarebbe stato già molto difficile, vista anche la pressione che normalmente è associata ad una competizione sportiva. Figuriamoci a maggior ragione in un contesto del genere dove il tiratore aveva invece ben presente il fatto che l'obiettivo era ammazzare delle persone. Quindi, francamente, non so se sia un professionista, ma di certo è una persona che ha una grossa dimestichezza con l'utilizzo delle armi e che ha anche un allenamento molto specifico per poterle utilizzare. Poi Monti si rivolge ai cittadini, le armi non sono giocattoli, dice e chiarisce. Se fossimo stati in America e qualcuno avesse sparato per fermarlo, cosa sarebbe accaduto? Beh, sarebbe successo un massacro. Perché? Perché questa polemica dei sostenitori dell'armarsi a tutti i costi è basata sul concetto che il cittadino armato potrebbe essere il cosiddetto first responder, cioè il primo a intervenire in caso di azioni di questo genere. Ma, e torno a dire, parlo esclusivamente in una prospettiva sportiva, Già la pratica sportiva richiede centinaia di ore di allenamento per essere minimamente efficienti in contesti, sì stressanti, ma tutto sommato di massima sicurezza. Figuriamoci che cosa accadrebbe ad una persona che magari ha il porto d'armi, non frequenta un poligono, ma soprattutto non fa di mestiere l'operatore della sicurezza che si trovasse a dover gestire un conflitto a fuoco. Le armi sono una cosa tremendamente seria, anzi, approfitto di questa possibilità per dire chi dovesse pensare di risolvere, tra virgolette, dei propri problemi di insicurezza personale ricorrendo alle armi, è bene che cambi idea, perché sono oggetti pericolosi che richiedono una cura e un addestramento estremo, ma soprattutto è bene che la sicurezza la facciano i soggetti che sono per legge deputati a garantirla. Grazie.